Si sono svolte nella mattinata di ieri, domenica 6 febbraio, le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto ad Auletta nel dicembre scorso e che è stato fatto esplodere presso la cava di Atena Lucana, sita in località Prete Pietro. L'ordigno di circa 500 libre contenente circa 127 kg di amatolo, ossia miscella esplosiva composta di tritolo e nitrato d'ammonio, risalente e pare alla seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto nel dicembre scorso nei pressi del fiume Tanagro sul territorio di Auletta. Le sue dimensioni hanno richiesto un'attenta organizzazione per la bonifica dell'area, coordinata dalla prefettura di Salerno, che nei giorni scorsi era alla ricerca di un luogo sicuro e idoneo per far brillare l'ordigno. Dal suo rinvenimento sono trascorse diverse settimane, proprio perché, essendo di grandi dimensioni, era necessario individuare un'area che non provocasse rischi per le persone. Individuata la zona isolata e lontana da possibili rischi sul territorio di Atena Lucana, è stata chiesta la disponibilità al Comune a partecipare alle operazioni. Disponibilità subito manifestata dal sindaco Luigi Vertucci, che ieri mattina era presente sul luogo a ridosso della cava, dove l'esplosivo è stato fatto brillare al fine di verificare che non vi fossero rischi per le persone, insieme alla Polizia Municipale, che in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, hanno controllato le vie d'accesso alla cava, per evitare che persone non autorizzate potessero avvicinarsi al luogo. Ad occuparsi delle attività di bonifica, i militari del ventunesimo reggimento Genio Guastatori, che oltre a provvedere alla bonifica del sito di Auletta, dove era stato rinvenuto l'ordigno, si sono occupati del trasferimento presso la cava di località Prete Pietro, scortati dalla Polizia Stradale, dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri. In stretta collaborazione tra la Prefettura di Salerno e il Comune di Atena Lucana, su espressa richiesta del primo cittadino Vertucci, l'ordigno, a bordo dei mezzi militari, ha raggiunto l'area designata evitando l'attraversamento del centro abitato, riducendo ogni possibile rischio alla comunità. Dopo la rimozione e la bonifica dell'area, nella mattinata l'esplosione dell'ordigno è avvenuta intorno alle ore 15.